Valorizzare l'orio verde della terra in un viaggio alla scoperta delle aziende agricole del mezzogiorno. E' questo l'obiettivo di T.Olio, l'iniziativa proposta dall'azienda agricola cilentana La Petrosa, che si è tenuto lo scorso fine settimana nella sede aziendale di Ceraso. L'evento, che mette al centro dell'attenzione l'olio di qualità e i suoi molteplici utilizzi, si è svolto con il patrocino del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse. Una full immersion di 48 ore che ha portato i visitatori alla scoperta degli oli extravergine d'oliva del Cilento e del mezzogiorno, attraverso incontri, esposizioni, degustazioni, passeggiate tra gli olivi e trattamenti benessere. Presente alla manifestazione il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, che ha precisato. Io sono contento di essere vicino ad una delle eccellenze del nostro territorio, perché la Petrosa sappiamo benissimo che lavoro straordinario in termini anche di sacrificio, ma soprattutto di amore per la propria terra. Io conosco anche la storia familiare ed è bello vedere quando ci sono poi le generazioni che continuano a portare avanti una tradizione, continuano a portare avanti il nostro biologico. Noi tante volte parliamo, parliamo della dieta mediterranea, parliamo del valore che abbiamo in termini proprio dei prodotti nel nostro territorio. Qui c'è un esempio concreto, qui c'è una dimostrazione evidente, qui siamo a casa dei veri ambasciatori della dieta mediterranea, perché la dieta mediterranea si poi trasforma e soprattutto deve essere concretizzata attraverso iniziative come queste.